Sabato andiamo a giocarci una partita molto importante per noi, dobbiamo essere molto bravi a star lì con la testa e non gondolarci troppo sul risultato fatto sabato, altrimenti rischiamo di fare brutte figure, quindi dobbiamo andare a giocare una partita molto tosta contro una squadra che sta giocando molto bene ed è in netta ripresa, quindi per noi sarà una partita fondamentale continuare con questo trend positivo e sperare di portare via più punti possibili da là.